Buongiorno a tutti e siamo giunti alla prima lezione del corso che entra veramente nel vivo degli argomenti del corso e quindi andremo a parlare oggi di javascript, linguaggio del web, come l'abbiamo descritto nella precedente lezione trovate qui un piccolo riassunto di tutte le funzionalità importanti di javascript non perché lo vogliamo andare a vedere nel dettaglio ma semplicemente questo è il cosiddetto cheat sheet cioè una specie di riassunto di tutte le funzioni e caratteristiche importanti da consultare che sono più frequentemente utilizzate quando si programma in javascript piano piano impareremo ad usarne buona parte nelle prossime lezioni come abbiamo già detto lo scopo di questa lezione è imparare delle prossime e imparare javascript come linguaggio di programmazione e andare soprattutto a imparare le specificità di questo linguaggio perché ha alcune caratteristiche che sono un po' diverse da tutti gli altri linguaggi di programmazione che avete visto finora e che conoscete nel dettaglio quindi per esempio il C piuttosto che Java piuttosto che Python e così via ci sono alcune peculiarità che vanno studiate nel dettaglio per diventare diciamo così bravi e ben coscienti di che cosa fa e di come si comporta questo linguaggio di programmazione chiaramente assumeremo che abbiate una buona conoscenza di come si programma in generale ma una buona conoscenza di programmazione per esempio in C o in Java con questo tipo di linguaggi che dovreste già aver visto e quindi non ritorneremo sulle cose che diciamo sono uguali sostanzialmente in questo tipo di linguaggi ma appunto ci focalizzeremo sulle peculiarità di javascript per capirne esattamente il comportamento e anche le potenzialità visto che ci sono alcune caratteristiche abbastanza peculiari che ci possono poi tornare molto utili per scrivere codice sintetico ma efficace più avanti tutto questo blocco di lezioni si focalizza principalmente sulla versione la cosiddetta ES6 del 2015 quindi relativamente recente 5 anni fa tra poco vediamo anche un po' di storia del linguaggio ed è diciamo la versione del linguaggio fondamentalmente più in uso al momento attuale è supportata fondamentalmente in quasi tutti i browser recenti e nell'ambiente di esecuzione server-side di cui abbiamo già parlato l'altra volta Node.js che andremo ad utilizzare appunto in questo corso per la programmazione lato server andiamo quindi a vedere qual è l'organizzazione di questa lezione due parole sulla storia di javascript e sulle varie versioni perché è importante capire diciamo quali sono le caratteristiche che ha senso utilizzare come possono essere utilizzate anche le più recenti e appunto orientarsi in questo ambito dopodiché parleremo di strutture del linguaggio e tutta la serie di cose di base come i tipi, le variabili, le espressioni, strutture di controllo e poi soprattutto ci focalizzeremo sulla parte relativa agli array e le stringhe che sono in particolare sugli aspetti un po' più peculiari di javascript in questo senso quindi cominciamo con la storia e le versioni questa slide è abbastanza densa e da questa slide vedete subito che javascript è un linguaggio abbastanza vecchio è nato nel 1995 da questo signore che in poco tempo, qualche settimana ha sviluppato le caratteristiche base di questo linguaggio 25 anni fa per un'azienda che si chiama Nescape che adesso se non sbaglio non esiste neanche più ma diciamo che è quella che ha realizzato uno dei primi browser web da cui discendono gli altri browser che utilizziamo attualmente in particolare per esempio Firefox all'inizio è nato come un progetto diciamo a sé stante dopodiché poco dopo si è voluto rendere un po' più standard non controllato esclusivamente da una singola azienda come invece era nato inizialmente come estensione del browser di una singola azienda e quindi nel 1997 abbiamo avuto la prima versione di questo standard e gli sviluppatori del linguaggio sono andati da questo organismo di standardizzazione che si chiama ECMA e appunto hanno messo insieme lo standard nella sua prima versione 1997 che aveva diciamo le prime funzionalità di base del linguaggio col passare del tempo chiaramente il linguaggio come tutti i linguaggi si è evoluto e sono state introdotte alcune funzionalità che diciamo si sono ritenute utili e si è visto essere utili nel corso del tempo con l'utilizzo del linguaggio stesso l'Exmascript 4, l'S4 in realtà non ha mai visto la luce perché non ci si è messi d'accordo su quello che si sarebbe effettivamente dovuto inserire all'interno però notate subito che c'è un gap, uno spazio temporale di 10 anni tra l'Exmascript 3 e l'Exmascript 5 quindi S3 e S5 e questo è stato un salto diciamo notevole in quanto il linguaggio si è arricchito di tutta una serie di funzionalità anche abbastanza importanti per esempio strict mode che è stata una delle funzionalità che è sostanzialmente eliminata alcune stranezze del linguaggio ma l'ha anche reso non compatibile con il passato e questo è l'unico caso in cui ciò è successo e poi tutta un'altra serie di funzionalità utili per gestire le necessità che stavano venendo fuori nel corso dell'utilizzo di JavaScript in particolare come linguaggio adatto appunto alla programmazione in ambito web un altro salto temporale abbastanza notevole è quello tra l'Exmascript 5 e l'Exmascript 6 quindi sono sei anni effettivamente questo la S6 è il nostro target principale quindi il nostro obiettivo e diciamo che in questa versione del linguaggio si trovano tutte le caratteristiche che fondamentalmente vogliamo andare ad utilizzare per le nostre applicazioni web e che sono diciamo utili a realizzare applicazioni relativamente moderne con costrutti del linguaggio non troppo complicati e convoluti per esempio appunto utilizzando classi, moduli eccetera che vedremo tra poco e nelle prossime lezioni da questo punto in poi il linguaggio si è evoluto e si continua ad evolvere tramite appunto questo comitato di standardizzazione dell'ECMA e su base un po' più regolare e quindi ogni anno fondamentalmente si cerca di inserire di realizzare una nuova versione in cui ci sono nuove funzionalità che sono ritenute utili per il linguaggio bisogna un po' fare attenzione perché tutto ciò che viene inserito nel linguaggio e poi se si vuole mantenere compatibilità chiaramente rimane scritto, potremmo così dire, nella pietra e quindi bisogna fare attenzione che queste funzionalità siano ben studiate, ben organizzate per evitare di introdurre cose che poi rendano difficile la programmazione e la comprensione dei programmi nel seguito vi faccio notare solo più una cosa su questo slide ossia che ci si può riferire alle varie versioni di javascript sia con il nome, diciamo così, abbreviato xmascript 6 piuttosto che con la versione più estesa xmascript con l'anno che però è 2015 quindi dal 2015 in poi è sempre un numero in meno 2015 rispetto al 6 rispetto al numero della versione dell'ecmascript quindi per esempio ecmascript 8 e 2017 e così via quindi il nome ufficiale di javascript è ecmascript tutti lo chiamano javascript lo faremo anche noi e diciamo questo è l'uso comune ma il nome ufficiale sarebbe appunto ecmascript e poi ci sono tutta una serie di implementazioni cioè le varie versioni dello standard quindi ci si può volere essere conforme ad una certa versione piuttosto che un'altra dello standard stesso per quanto riguarda le versioni supportate di cui diremmo un po' di più tra poco praticamente tutti i browser supportavano l'exmascript versione 3 quindi se torniamo indietro nella slide 1999 i più recenti fondamentalmente supportano sicuramente l'ecmascript 5 e l'ecmascript 2015 cioè versione 6 queste versioni hanno introdotto come dicevamo cambiamenti molto significativi e quindi diciamo molti si sono adeguati nel seguito come abbiamo detto parleremo di ecmascript 2015 a meno di indicazioni differenti che verranno date volta per volta e comunque vedrete che ci sarà una maniera per gestire queste nuove funzionalità in maniera abbastanza diciamo in maniera compatibile anche con ambienti di esecuzione che supportano solamente versioni precedenti del linguaggio questo è lo standard ufficiale ECMA che ovviamente come tutti gli standard è molto formale perché è una specifica di un linguaggio ed è quindi illegibile fondamentalmente può essere utile solamente se si sa cosa si sta andando a cercare per andare a capire effettivamente cosa dice lo standard esattamente su quel punto ma non è un modo di diciamo apprendere il linguaggio perché appunto non ci spiega né le motivazioni né ci dà un aiuto particolare nella comprensione qualche parola su gli ambienti che sono in grado di far funzionare javascript come sapete è un linguaggio che ha bisogno di un ambiente di esecuzione anche perché è un linguaggio interpretato il più diffuso è il cosiddetto V8 sviluppato da Google e che è usato in Chrome uno dei browser più diffusi è la sua versione Free Chromium ed anche l'interprete che è Node.js che andremo ad utilizzare che è quello che ci aiuta a far funzionare i programmi lato server usando javascript esiste un secondo motore di interpretazione di javascript che è il cosiddetto Spider Monkey sviluppato dalla Mozilla Foundation e che troviamo con il nome di Gecko all'interno di Mozilla Firefox quindi di uno degli altri browser più diffusi e poi ci sono tutta una serie di implementazioni diciamo meno importanti inclusa quella di Microsoft che era stata utilizzata inizialmente in Edge ma come forse sapete le nuove versioni di Edge sono basate fondamentalmente sull'engine di Chromium e quindi fondamentalmente anche loro sono basate sul V8 è possibile trovare in rete tutta una serie di indicazioni su che cosa viene supportato da quali browser sia di tipo desktop sia di tipo mobile piuttosto che da Node.js che è l'ambiente di esecuzione di auto server che non è mostrato qui e così via a livello addirittura delle singole funzionalità javascript noi non ci concentriamo diciamo non andiamo a verificare che cosa che cosa effettivamente supportato non supportato dai singoli browser eccetera andremo fondamentalmente a utilizzare funzionalità che sono ben supportate dalla maggior parte dei browser come vedete ci sono alcune colonne piuttosto rosse magari perché per esempio fondamentalmente lo sviluppo del browser è stato abbandonato come nel caso di Internet Explorer e così via quindi è possibile trovare in rete questo genere di tabelle che vengono periodicamente aggiornate e che ci dicono effettivamente quali funzionalità sono disponibili in quali browser sono stati ancora qualche parola sulla compatibilità di javascript tra le varie versioni che è assolutamente importante da comprendere prima di tutto javascript è compatibile all'indietro cioè quando qualcosa viene standardizzato in javascript siamo sicuri che non ci sarà un cambiamento futuro nello standard per cui questo codice diventa non valido quello che dicono i membri del comitato di standardizzazione è fondamentalmente non rompiamo il web non facciamo in modo che le cose non funzionino più sul web anche se aspettate un po' di tempo e diciamo caricate la stessa pagina web con javascript quindi javascript è backward compatible a parte una piccola cosa che diremo tra un istante e invece non è forward compatible cioè non è garantito che le cose che vengono aggiunte nella nuova versione dello standard funzionino in una versione precedente dell'ambiente di esecuzione javascript e possono addirittura mandarlo in crash questo però non è un problema perché sono stati trovati dei modi diciamo per ovviare a questo inconveniente una caratteristica che invece è stata inserita che non è backward compatible ma è estremamente importante e la utilizzeremo ed è l'unica in ambito javascript è il cosiddetto strict mode perché nelle prime versioni di javascript c'erano tutta una serie di comportamenti che non erano particolarmente intuitivi e potevano essere anche piuttosto pericolosi nel senso che il comportamento reale poi differiva da quello che un normale programmatore si sarebbe aspettato e quindi con questo strict mode che quindi rende il programma in strict mode non compatibile del tutto con quanto veniva fatto in passato si riesce però ad ottenere una sintassi e un comportamento un po' più intuitivo un po' più chiaro per chi sviluppa dicevamo per la compatibilità futura che ci sono una serie di metodi per supportare comunque caratteristiche di una versione più avanzata del linguaggio per esempio per supportare una nuova versione della sintassi javascript su un sistema che supporta solo una versione più vecchia è possibile di fatto compilare la nuova versione in un codice sorgente che è compatibile con la vecchia versione quest'operazione si chiama transpiling uno dei più noti compilatori di questo tipo è bubble e quindi possiamo fondamentalmente scrivere il nostro codice in una versione più recente di quella supportata dal target dal dispositivo nel quale vogliamo far funzionare il nostro il nostro codice e prima di diciamo rilasciarla o metterla su questo dispositivo software e così via la compiliamo in una versione più vecchia quindi le nuove funzionalità vengono in qualche maniera riscritte in maniera che siano compatibili con la vecchia versione alle volte queste funzionalità sono anche funzionalità di libreria quindi ci sono degli nuovi oggetti definiti nuove funzioni nuovi metodi e così via e la tecnica per consentire di utilizzare queste nuove funzionalità su versioni più vecchie del linguaggio è il cosiddetto polyfilling cioè in parole povere inseriamo dei pezzi di codice che implementano le funzionalità che sarebbero nativamente disponibili nelle nuove versioni di javascript e invece non lo sono perché la versione è più vecchia riguardo agli ambienti di esecuzione pensiamo a javascript ecmascript 6 s6 vedremo nel nostro corso fondamentalmente tre ambienti uno è quello lato server di cui abbiamo parlato più volte tramite questo interprete no js che funziona su tutte le piattaforme seppure con una serie di differenze la piattaforma su cui funziona meglio è la piattaforma linux unix ed è anche quella che consigliamo quella che è stata installata in laboratorio è quella che vi consigliamo di utilizzare nativamente oppure tramite una macchina virtuale installate una macchina virtuale linux sul vostro calcolatore facendola girare che so tramite virtualbox eccetera se non ce l'avete a disposizione nativamente è possibile farlo funzionare anche in maniera nativa su windows ma è una cosa sconsigliata anche dalla stessa microsoft autrice del sistema windows c'è un modo per farlo funzionare in windows in una maniera un po' migliore che è il cosiddetto windows subsystem for linux però versione 2 che la supporta un po' meglio è un po' macchinoso il setup quindi dovete un po' capire se vi interessa andare a fare a seguire tutta questa complicazione di setup e di utilizzo avendo di fatto alla fine una specie un linux effettivo che gira sotto windows in maniera praticamente nativa come se fosse una macchina virtuale ben ottimizzata ben integrata con il sistema oppure andare direttamente su una versione linux ci sono poi gli ambienti di esecuzione nel browser e questi invece sono chiaramente indipendenti dal sistema operativo utilizzato un browser chrome piuttosto che firefox piuttosto che altri e questi nativamente girano sulle varie piattaforme perché avete già scaricato la versione relativa alla piattaforma e quello che conta in realtà è l'ambiente di esecuzione javascript che è quello che abbiamo visto prima v8 piuttosto che jquart eccetera e poi ci sono degli ambienti di esecuzione più didattici che utilizzeremo ed è utile utilizzare soprattutto all'inizio per capire come funzionano effettivamente le cose per esempio c'è questo python tutor che si chiama python non è un errore ma perché l'autore inizialmente l'ha realizzato per il python ma è poi stato adattato ad altri linguaggi incluso javascript e che andremo a vedere nel seguito di questa lezione questo è uno screenshot poi effettivamente andremo a provare questa funzionalità quindi possiamo sostanzialmente andare a fare una prova e graficamente ci viene visualizzato quello che succede nell'ambiente javascript che è assolutamente utile da capire per capire come il javascript effettivamente si comporta potete utilizzarlo liberamente e anche su un'applicazione web liberamente accessibile su questa pagina andiamo ad ora a vedere i primi erudimenti di come è organizzato il linguaggio javascript prima di tutto c'è da capire che ogni file è un programma javascript differente chiaramente avranno poi modo di parlarsi tutti questi programmi però ogni file caricato per esempio in una pagina web è caricato in maniera indipendente quindi questo vuol dire che nella stessa pagina web possiamo avere più programmi javascript che chiaramente poi in qualche maniera si parleranno questo è anche un vantaggio perché se c'è un problema di esecuzione in uno di questi programmi cioè in una di queste risorse javascript caricate in una pagina web questa non va a influire su cosa succede invece per le altre risorse caricate chiaramente è necessario come nell'ambito di una pagina web fare in modo che i differenti file e programmi javascript si parlino e per fare ciò si può fare questa operazione tramite uno stato globale condiviso cioè fondamentalmente tramite delle variabili globali chiaramente questo è uno dei possibili approcci non è detto che sia il migliore perché come sapete l'utilizzo delle variabili globali poi si presta ad avere effetti collaterali di difficile diciamo gestione in progetti più grandi perché non vengono ben separati i responsabili della gestione dell'aggiornamento di questi stati a questo scopo quindi è stato pensato un meccanismo differente proprio di javascript è il meccanismo dei moduli che ci consente di importare delle funzionalità e condividere del fare in modo che diverse parti di diversi programmi javascript parlino tra loro e condividono anche lo stato in una maniera un po' più chiara una cosa importante da capire è che il file che rappresenta il programma javascript viene prima di tutto nella sua interezza nella sua interezza parsificato e poi viene eseguito dalla cima al fondo dall'inizio alla fine e questo è importante da capire perché vuol dire che se noi a metà del file abbiamo un cosiddetto syntax error abbiamo scritto qualcosa che dal punto di vista sintatico non funziona in javascript l'esecuzione del file neanche inizia quindi prima di tutto viene diciamo potremmo dire compilato in una versione interpretabile dal calcolatore tutto il file e se non ci sono errori viene iniziata l'esecuzione con la modalità di un'istruzione per volta quindi diciamo l'interpretazione del programma javascript come tutti i linguaggi anche in javascript c'è una libreria standard e quindi ci sono tutta una serie di funzionalità offerte dal linguaggio per gestire le principali diciamo operazioni che un linguaggio di programmazione deve consentirci di gestire per esempio gestire le strutture dati del linguaggio stesso gestire le stringhe gestire l'input output per lo meno di base quindi la stampa di stringhe e così via e poi chiaramente ci sono tutta una serie di API addizionali fornite dall'ambiente di esecuzione che differiranno a seconda del tipo di ambiente di esecuzione che andremo ad utilizzare se siamo in un browser la cosa sarà diversa rispetto a quando siamo che so in Node.js l'ambiente esecuzionato server e così via javascript i programmi javascript sono scritti in unicode questo vuol dire che qualsiasi carattere unicode è valido e può essere usato per esempio anche come identificativo di variabile vi suggeriamo caldamente di non abusare di questa funzionalità però ogni tanto potrebbe essere utile i punti e virgola non sono obbligatori vengono automaticamente inseriti da javascript secondo una serie di regole e parleremo tra un attimo meglio di questa caratteristica perché è abbastanza importante quindi non è come in c o java dove i punti e virgola sono obbligatori al termine di ogni istruzione e questo potrebbe anche causare i problemi come vedremo tra poco se non si pone la dovuta attenzione il linguaggio che è il sensitive si usano i commenti come in c ci sono tutte le regole per definire come devono iniziare gli identificatori una serie di keyword come in tutti i linguaggi una sintassi molto simile al c quindi se siete abituati al c diciamo non avete particolari problemi dal punto di vista della sintassi venendo alla questione un po' particolare del punto e virgola il punto e virgola è sempre un argomento di dibattuto nella comunità dei programmatori di javascript c'è chi dice è meglio inserirne di più anche quando non sono effettivamente strettamente necessari come cioè obbligatori dal punto di vista dello standard e chi invece dice è meglio inserirli solo quando servono vedete poi voi l'equilibrio che riuscirete a trovare con l'esperienza la cosa importante è non dimenticare il punto e virgola quando invece questo è effettivamente obbligatorio perché questo può portare anzi quasi sicuramente quasi sempre porta ad un comportamento diverso da quello che il programmatore si aspetta quindi javascript li inserisce punto e virgola quando necessario tipicamente quando ciò che segue non può essere concatenato logicamente con quello che precede c'è un'istruzione che ha un suo termine e quindi vuol dire che l'istruzione seguente sostanzialmente è differente quindi come se ci fosse stato un punto e virgola quindi bisogna fare attenzione però perché dimenticarsi il punto e virgola può causare comportamenti inattesi per esempio se la linea successiva incomincia con una parentesi per esempio una tonda piuttosto che una quadra può darsi e spesso viene interpretata come visto la tonda una chiamata di funzione e di solito non è quello che si vuole perché per esempio se si è andati a capo si pensava che fosse una nuova istruzione oppure una quadra quindi un accesso ad un array che magari non esiste quindi da un errore di esecuzione e così via vedremo e prenderete la mano piano piano a questi comportamenti quindi troverete poi come dicevo il vostro equilibrio una cosa che vi consigliamo di utilizzare assolutamente è questa direttiva introdotta in S5 che è composta da una singola riga tipicamente la prima del vostro programma che è una stringa una semplice stringa racchiusa tra doppi apici use strict punto e virgola che consente di escludere quei comportamenti strani di cui parlavamo qualche minuto fa cioè quelli della javascript prime versioni che possono portare facilmente degli errori di programmazione dovuti effetti collaterali non così evidenti per esempio una cosa che viene verificata in strict mode è che tutte le variabili devono essere dichiarate quindi non è possibile avere variabili non dichiarate e tutta un'altra serie di caratteristiche che potevano portare a pensare quando si legge un programma javascript che diciamo il programma effettivamente si comporti in una maniera diversa da quello che è intuitivo invece leggendo il programma veniamo ai caratteristiche diciamo di base del linguaggio cominciamo con quelle di base ovviamente come detto ci focalizziamo solamente sulle caratteristiche più importanti e diverse dai linguaggi di programmazione che già conoscete per ognuna di queste di questo set per ognuno di questi set di slide trovate sempre dei riferimenti ossia risorse libri o altro tipo di risorse che potete andare a consultare per avere maggiori informazioni e maggiori dettagli questa sarà una costante all'interno delle nostre slide che spero che vi aiuti anche per uno studio più approfondito per conto vostro qualora fosse necessario prima di tutto tipi e variabili le variabili non hanno un tipo come in molti altri linguaggi di scripting il tipo ce l'hanno invece i valori quindi un valore può avere un tipo o primitivo o più complesso questo in javascript i tipi primitivi in javascript sono fondamentalmente le stringhe i numeri e notate che non c'è differenza tra numeri interi e decimali i boolean che hanno solo due valori chiaramente vero e falso e due tipi un po' speciali che sono null e undefined che hanno rispettivamente valore null e undefined ci sono poi dei tipi più complessi che sono oggetti di cui cominceremo a vedere qualcosa in particolare per esempio gli array piuttosto che le funzioni o piuttosto che tutti gli oggetti che invece definiamo per conto nostro che sono già definiti per qualche motivo all'interno dell'ambiente di esecuzione quindi lo schema è diciamo relativamente semplice una volta che si conosce e che si tiene conto di questi valori speciali che saltano fuori ogni tanto in occasioni particolari per esempio quando ci sono valori non inizializzati e cose di questo tipo la questione dei valori veri e falsi è importante da capire in javascript perché è piuttosto diversa da molti altri linguaggi se pensate al c il c dice il valore è vero è falso se è zero e è vero se è diverso da zero qui ci sono questi valori diciamo truthy e falsy cosiddetti in inglese in inglese che sostanzialmente vogliono dire quello che prendiamo se noi lo convertiamo in un valore booleano otteniamo un valore falso o un valore vero se otteniamo un valore falso appunto l'espressione è falsa falsi e se invece otteniamo un valore vero sarà truthy vero gli unici valori che ritornano un valore falso quando convertiti in booleano e che non siano ovviamente già il false il valore booleano di per sé falso sono zero meno zero note number che è il risultato di un'operazione matematica errata per esempio divisione per zero cose di questo tipo e i due valori speciali undefined null e in aggiunta ancora un'ultima cosa che è la stringa vuota quindi la stringa vuota è anche essa un valore che se convertita in booleano diventa falsa tutto il resto invece è vero quindi un numero che non sia zero la stringa false non il valore false elementi vuoti come array vuoti oggetti vuoti e così via questi sono veri guardate per esempio l'esempio qui per esempio il boolean della stringa vuota è false il boolean di uno spazio è vero quindi bisogna fare sempre attenzione e inoltre siccome i booleani vengono fondamentalmente utilizzati nei test nei confronti bisogna fare attenzione a come andiamo a fare questo tipo di confronti quelli che fondamentalmente utilizziamo nei costrutti di controllo per esempio gli if e così via c'è la possibilità di fare due tipi di confronti quello col doppio uguale e quello col triplo uguale quello col triplo uguale è forse quello più intuitivo nel senso che non viene effettuata nessuna conversione di tipo e quindi si prendono i due valori e se effettivamente sono lo stesso valore con lo stesso tipo sono uguali altrimenti no invece il doppio uguale converte i tipi e ne confronta i risultati dopo aver fatto l'operazione di conversione ancora una parola sui numeri come dicevamo non c'è distinzione tra numeri interi e numeri con la virgola viene effettuata una conversione automatica quando necessario però ogni tanto abbiamo necessità di mantenere i numeri interi proprio come interi e non perché sono diventati troppo grandi farli diventare dei float che perdono di precisione quindi dei numeri con la virgola mobili quindi è possibile utilizzare un tipo speciale bigint e i numeri possono essere specificati con questo n alla termine che dice a javascript di mantenerlo come numero intero però questi sono diciamo dettagli che così ogni tanto diamo per far capire che ci sono tutta una serie di peculiarità del linguaggio che se necessari si possono andare a ricercare in giro nelle varie risorse e andare a diciamo approfondire per conto proprio quando è necessario valori speciali undefined per esempio il tipico valore di una variabile dichiarata ma non inizializzata è possibile andare a vedere su un valore undefined quindi con costrutto typeof typeof variable triple uguale undefined anche del costrutto void di qualcosa ritorna undefined null è un valore vuoto un po' l'equivalente del none di python per esempio del null di javascript e di java quindi questo null undefined sono i cosiddetti nullish values in inglese e sono una cosa diversa dal none che è comunque un numero a differenza di undefined null nello schema che abbiamo visto prima ed è il risultato di quando si fanno operazioni che non sono possibili matematicamente o altri problemi di conversione numerica e così via quindi quando si vuole dividere per zero oppure si vuole trasformare in qualcosa che non è un numero in un numero e così via alcune funzioni ritornano none le variabili è importante capire sono dei puri riferimenti quindi si riferiscono a un valore e quindi sono fondamentalmente solo delle etichette dei nomi che tra l'altro possono riferirsi a valori di tipo anche diverso nel corso dell'esecuzione del programma quindi prima una variabile conteneva un valore numerico e poi può contenere una stringa e così via è possibile dichiarare una variabile tramite tre keyword fondamentali let const e var qui sulla destra c'è un piccolo esempio di come funzionano per potervelo poi ricordare quando rileggete le slide ma andremo adesso a provare direttamente come effettivamente funzionano dopo una breve descrizione let è il dichiaratore che consigliamo di utilizzare quindi preferred per le variabili che devono essere riassegnate quindi che non siano costanti non è possibile ritichiarare una variabile con let è accessibile solo all'interno del suo blocco quindi un po' come il c non viene fatto l'hoisting in realtà l'hoisting viene fatto solamente appunto per le variabili tipo var che sono la prima tipo di variabili che è nato in javascript e dopo diremo bene che cos'è opposto let c'è const per i valori che devono essere che si pensa siano mantenuti costanti quindi quando il programmatore pensa che questa variabile non verrà riutilizzata è bene dichiararla con const che vuol dire che se cerchiamo di riassegnarla tramite un'istruzione l'ambiente di esecuzione ci darà un errore attenzione che questo vale per i valori assegnati direttamente alla variabile ma se andiamo a modificare qualcosa che è referenziato dalla variabile chiaramente questo non è protetto in questa maniera var è la modalità con la quale javascript diciamo dichiarava le variabili prima diciamo dell'ecmascript 6 ed era l'unica modalità disponibile poteva essere ridichiarato quindi questo può creare anche confusioni ha uno scopo un po' particolare quindi lo scopo è la funzione e non il blocco di parentesi graffe oppure addirittura globale a seconda di dove viene fatto e questa variabile nonostante sia dichiarata ad un certo punto del programma esiste fin dall'inizio del programma questo è il cosiddetto hoisting quindi viene sin dall'inizio del programma o della funzione si è dichiarata all'interno di una funzione questo perché come avevamo detto prima javascript prima di eseguire qualsiasi cosa parsifica tutto il programma e quindi conosce tutto quello che succede a livello sintattico all'interno del programma e sposta queste dichiarazioni all'inizio dell'horoscope e bisogna un po' fare attenzione appunto a queste caratteristiche particolari e poi c'era anche la possibilità nelle versioni precedenti javascript che non sono che che sono state e questa è stata questa caratteristica che è stata eliminata con lo strict mode di non dichiarare la variabile tramite un dichiaratore e quindi era implicitamente dichiarata quindi non ha senso la questione della dichiarazione e così facendo si creava una variabile globale di cui veniva fatto anche esso l'hoisting quindi andiamo piuttosto che a vedere l'esempio direttamente a sperimentare tramite quello strumento che abbiamo visto prima che è il python tutor ecco quindi adesso sono su python tutor questo è il python tutor javascript in cui possiamo scrivere del codice e possiamo andare a utilizzare live mode quindi premendo su live live programming mode tendiamo un attimo e riusciamo a vedere graficamente quello che succede a livello di codice muovendoci anche linea per linea quindi con una specie di debugger quindi proviamo a far funzionare il i nostri programmi in questo python tutor ovviamente javascript quindi cominciamo con use strict strict e poi andiamo a dichiarare qualche variabile quindi let abbiamo detto di usare let let a uguale 1 ok quindi vedete che nell'ambiente di esecuzione a livello globale compare un nome a che ha un valore 1 numerico proviamo a fare una costante const b uguale 2 ok la linea viene eseguita e abbiamo un b uguale 2 possiamo riassegnare il valore alla variabile 3 vedete che cambia e se andiamo a riassegnare il valore a b vedrete che compare un errore assignment to constant variable ovviamente ciò non è possibile perché l'abbiamo dichiarata const ok possiamo andare a vedere che cosa succede nel momento in cui andiamo a creare un blocco quindi apriamo una parentesi graffa e chiudiamo la parentesi graffa e quindi vedremo subito che cosa succede possiamo per esempio iniziare eseguire linea per linea all'inizio le variabili nel blocco 1 questo blocco aperto con le parentesi graffe non sono definite quindi questo valore undefined segniamo 1 segniamo 2 quando usciamo spariscono perché le et const sono relative al blocco cioè le parentesi graffe come succede in c e quindi se cerco di fare a uguale a 3 mi dirà che non è stata definita e per risolvere il nostro problema dobbiamo chiaramente dichiararla per esempio tramite let e vedrete che ciò quindi diventa possibile però chiaramente poi abbiamo due variabili con lo stesso nome uno all'interno del blocco uno fuori è sempre bene fare attenzione a non fare diciamo pasticci in questa in questi con i nomi delle variabili a meno che il comportamento non sia intuitivo è quello che effettivamente poi ci si aspetta dal punto di vista della programmazione vediamo ora quello che dicevamo sul var quindi questo comportamento di scope e hosting se noi avessimo scritto var anziché const andiamo a vedere che cosa succede al termine chiaramente abbiamo a uguale a 3 però se noi andiamo alla prima linea e eseguiamo passo passo vedete che abbiamo a undefined e notate che non è nello scope del blocco 1 ma nello scope globale global frame a cui viene assegnato il valore 1 b2 che poi sparisce al termine del blocco a questo punto l'a che prima ci dava errore perché non era definita invece esiste e viene eseguita e possiamo anche andare a recuperare il valore di a quindi se noi scrivessimo a uguale a per 5 e di nuovo eseguiamo passo per passo 1 e poi facciamo 5 e la variabile ha il suo valore 5 notate che appunto se noi scrivessimo che so var a uguale a per 5 in questo punto togliessimo var qui dentro il global frame questo programma quando inizia funzionerà 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 e questa variabile a esisterà e sarà globale anche se non dichiarata qui dentro nel blocco come var perché perché viene fatto quello che dicevamo prima l'hosting di di tutte le variabili che sono dichiarate con var e quindi come se avessimo scritto var a qui all'inizio senza chiaramente il valore iniziale e quindi se proseguiamo ovviamente possiamo andare a recuperare il valore di a settato qui ma dichiarata dopo e utilizzarlo quindi è come se avessimo scritto var a e avessimo lasciato a uguale a per 5 questo ci viene fatto automaticamente da javascript quindi var a poi a allora a questo punto esegue esattamente come prima però questa operazione viene fatta in maniera tutto automatica dal punto di vista di javascript e quindi non è particolarmente intuitiva non è particolarmente vicina come un programmatore si aspetta quello che il programmatore si aspetta quando si legge il codice e quindi ci si aspetta che le cose dichiarate da quel momento vargano da quel momento in poi non che vengano riportate all'inizio perché se inizio dall'inizio a leggere chiaramente non so che cosa c'è scritto dopo quindi qui c'è un esempio sulle slide che ci mostra appunto questa caratteristica per esempio utilizzando una funzione come dicevamo c'è anche la questione dello scopo della funzione e il var il var viene riportato all'inizio dello scopo che per il var è la funzione o è lo scopo copale quindi in questo caso siamo dentro una funzione quindi il var ci viene messo qui ok proseguiamo quindi con la nostra lezione parliamo di espressioni molto brevemente e qui trovate tutti i riferimenti incluse risorse web come per esempio la Mozilla Developer Network e chiaramente sono disponibili tutta una serie di operatori per fare tutte le operazioni tipiche di un linguaggio di programmazione inutili che stiamo a vedere il dettaglio se c'è bisogno anche per la precedenza e così via si può andare a consultare la guida abbiamo parlato degli assegnamenti abbiamo suggerito fortemente suggerito di utilizzare sempre il let quando si dichiara la variabile chiaramente una variabile poi si è dichiarata con un valore immediato piuttosto che un'espressione ogni espressione poi sarà assegnata ad una variabile viene calcolata e viene assegnato il risultato ci sono i vari operatori di assegnamento tipici simili anche al C e così via gli operatori di confronto nulla di particolare da segnalare se non il strettamente uguale di cui abbiamo già parlato c'è il triplo uguale che ritorna true solamente se gli operandi sono esattamente uguali incluso il tipo tutti gli altri operatori uguale col doppio simbolo di uguale diverso maggiore eccetera fanno tutti una conversione di tipo cioè cercano di convertire i tipi in maniera che i valori siano confrontabili questa è la conversione di tipo automatico che avviene in javascript quindi tramite tra tipi primitivi quindi quelli che abbiamo visto quando abbiamo parlato di tipi prima di applicare gli operatori viene cercato si cerca di effettuare questo tipo di conversione tra qualunque tipo se è necessario convertire il boolean si usano quelle regole truti falsi ricordate quello che abbiamo detto che cos'è falso e che cos'è non è per esempio la stringa la stringa vuota è falsa da boolean a number la cosa è molto semplice se il valore è vero diventa 1 se non 0 da numero a stringa di fatto si può convertire utilizzando a javascript utilizza il metodo to string se effettivamente è presente utilizzando il costruttore string oppure facendo questa operazione aggiungendo la stringa vuota cioè concatenando il valore a una stringa vuota cioè di fatto se è un numero questo viene convertito sotto forma di stringa l'operazione contraria si può fare tramite il costruttore di un numero più s quindi che forza la stringa a diventare un numero perché gli abbiamo messo un segno sottraendo 0 e oppure utilizzando le funzioni apposite per esempio parsificando la stringa per cercare di convertire in intero piuttosto che float da qualsiasi tipo è possibile muoversi la stringa tramite il metodo to string che molti elementi hanno già integrato piuttosto che col costruttore di stringa quindi ci sono alcuni costrutti come questi che abbiamo visto per esempio il costruttore oppure queste sintassi un po' particolare tra cui anche questa questa forse è carina da vedere perché poi ogni tanto si trova nel codice per convertire in boolean si può fare il negato e poi il negato del negato perché altrimenti avremo il valore opposto a quello che ci interessa e quindi ci sono questi costrutti che possiamo utilizzare per forzare la conversione di tipo che desideriamo altrimenti la conversione di tipo avviene in maniera automatica secondo le regole del linguaggio operatori logici and or not ecco il not l'abbiamo appena visto l'or forse vale la pena spendereci un attimo di tempo in più perché funziona in maniera leggermente diversa il c ossia ritorna l'espressione 1 se l'espressione 1 può essere convertita a true quindi non è che ritorna true o false ma ritorna l'espressione 1 questo è importante fate attenzione a questo aspetto altrimenti ritorna l'espressione 2 quindi se è usato con dei booleani chiaramente funziona come il meccanismo del c se invece non è usato con dei booleani bisogna fare attenzione che se il primo è true ritorna il valore di exp 1 non convertito a true o false quindi non convertito in booleano quindi questa è abbastanza interessante perché ogni tanto si riesce a scrivere del codice un po' compatto ma molto efficace che di fatto significa quando scriviamo a or b di fatto diciamo se a allora a altrimenti b cioè di fatto diciamo a ma con valore di default b se a non fosse per esempio impostato ci sono alcuni operatori che tra l'altro possono essere utilizzati con tipi anche diversi per esempio il più è uno dei più comuni si può utilizzare con le stringhe per concatenare le stringhe come in molti linguaggi di script forse possiamo vedere un esempio di di utilizzo di questo operatore quindi andiamo a vederlo nel nostro simulatore e quindi che so scriviamo let name uguale Enrico let saluto hello più name e questo chiaramente viene eseguito in maniera molto ovvia hello Enrico ok nel momento in cui name non fosse impostato chiaramente avremo hello e basta quindi se invece volessimo diciamo avere una cosa che non lascia hello e basta ma scrive che so un valore di default potremmo scrivere name uguale name or or che so hello hello there quindi non succede niente se c'è un valore impostato di Enrico se lasciamo la stringa vuota invece automaticamente name viene impostato al valore di default there quindi questo è un sintassi un po' particolare che vale la pena conoscere perché è molto utilizzata perché esprime in maniera molto rapida quello che invece dovremmo fare con un if o comunque un'operazione magari un po' più complicata di più difficile interpretazione nel momento in cui leggiamo il codice chiaramente come ogni linguaggio di programmazione che si rispetti ha tutta una serie di funzionalità matematiche c'è l'oggetto math che consente di fare tutte le operazioni di cui abbiamo necessità e così via parliamo un po' di strutture di controllo di nuovo questi sono i riferimenti ci sono tutte le strutture di controllo più tradizionali quindi refiles if else if ecc tipo c switch fate attenzione come sempre richiamiamo l'attenzione su cosa c'è di peculiare in java in javascript quindi condition viene valutata con quel meccanismo di truth cioè non è solo il valore diverso da zero ma ci sono tutti quei valori che valutano a falso quindi che sono stringa vuota eccetera vengono valutati come vero switch l'espressione a differenza del c qui per esempio può anche essere una stringa e così via ci sono i for i for diciamo sintassi tipo c tipicamente viene la prima parte del for viene utilizzata per andare a dichiarare una variabile la variabile che gira all'interno del loop per esempio let i uguale zero e così via e le variabili dichiarate qui hanno scope se lo fate con let solamente all'interno del ciclo for e quindi non interferiscono con le variabili all'esterno del for e do while while si possono usare i break continui come il c ci sono dei for un po' particolari questo è il primo for che era presente sin dall'inizio diciamo le prime versioni di javascript il for in che numera e itera anzi la variabile su tutte le proprietà enumerabili quindi listabili dell'oggetto da non usare per gli array piuttosto si usa il meccanismo degli indici numerici o il for off che è questo qui di fianco il for off è disponibile solo dalle versioni un po' più recenti di javascript e ha una sintassi diciamo un po' meno intuitiva perché forse l'in è una parola chiave più facile da ricordare rispetto all'off ma è stato introdotto perché così si può utilizzare il for senza dover esplicitamente creare una variabile ciclare con quella variabile e così via in maniera più intuitiva per esempio su tutti gli oggetti iterabili quali per esempio gli array ma non solo i set le stringhe eccetera eccetera e tra l'altro a differenza di questo a sinistra con l'in ritorna il valore e non la chiave e quindi non xy come viene fatto qui a sinistra ma il valore per esempio dell'array è presente nell'array nella stringhe e così via quindi se noi facciamo for let quindi dichiariamo la variabile a che ha scopo all'interno del blocco del for solamente vive all'interno del blocco del for off un certo array 4 7 console log cioè stampiamo in console il valore di a questo valore assume via via i valori all'interno dell'array 4 7 eccetera eccetera e funziona anche con le stringhe perché sono elementi iterabili cioè si può passare da un carattere successivo e via via a avrà il valore delle varie lettere che compongono la stringhe se invece avessimo l'in questo può essere fatto su un oggetto che si dichiara in questo modo lo vedremo più avanti però questo enumera le chiavi quindi le proprietà dell'oggetto e non i suoi valori quindi ne riparleremo ma in generale orientiamoci sul for off che è molto più intuitivo e semplice da capire altri metodi per iterare su elementi iterabili quali per esempio gli array esistono ne parleremo un po' più avanti quindi nelle lezioni successive quando avremo parlato un po' meglio di funzioni perché sono fondamentalmente metodi che assumono un pattern di programmazione un po' diverso cioè il cosiddetto functional programming programmazione funzionale che è fortemente supportata da javascript e quindi ci consentono di fatto di andare a richiamare una funzione per ogni elemento dell'array quindi o dell'oggetto iterabile che appunto può essere anche una stringa o altri elementi di questo tipo quindi i più noti sono for each map ma ne parleremo più avanti altri costrutti gestione delle eccezioni tra i catch col finally che viene eseguito in ogni caso come in tanti altri linguaggi di programmazione che sono python, java e così via un oggetto può essere lanciato come eccezione col throw e ci sono già degli oggetti predefiniti che possono essere utili e che tra l'altro abbiamo anche visto appunto come type error valerror syntax error e così via o comunque vedremo li incontreremo sicuramente bene andiamo a parlare adesso di array che abbiamo appena intravisto questi gli array in javascript sono particolarmente ricchi di funzionalità e hanno una peculiarità rispetto ad altri linguaggi di programmazione come per esempio il c ossia che gli elementi non devono essere necessariamente dello stesso tipo ma questo forse è intuitivo perché alla fine sono riferimenti a dei valori e quindi i riferimenti sono tutti riferimenti e chiaramente cosa cambia il tipo del valore a cui si riferisce la sintasi l'abbiamo intravista è quella delle parentesi quadre come in quasi tutti i linguaggi di programmazione è possibile conoscere la dimensione dell'array tramite la proprietà length scrivendo appunto length ecco è importante distinguere tra i tanti metodi che sono a disposizione per gli array in javascript tra quelli che modificano l'array in place e quindi vanno a fare delle modifiche direttamente all'array stesso e quelli che invece ritornano un nuovo array questa distinzione ci tornerà particolarmente utile più avanti perché molto spesso è necessario per esempio in react ritornare nuovi array per fare modifiche di stato e così via quindi dobbiamo sempre aver presente che cosa viene fatto dal punto di vista del metodo cioè se va a modificare l'array oppure ne crea uno nuovo creare un array è molto facile e l'array si crea sostanzialmente con queste sintassi let non siamo sempre let come abbiamo consigliato di fare v uguale aperta e chiusa quadra punte virgola e questo crea un array vuoto un array invece con degli elementi può essere creato in questa maniera dando direttamente i valori o piuttosto con questo array off che è onestamente un po' meno intuitivo questi sono parametri di una funzione che ha un numero di parametri variabili il risultato mostrato tramite il python tutor se fate una prova è questo abbiamo v che è un riferimento ad un array indicizzato tramite gli indici a partire da zero e è possibile accedere ai singoli elementi tramite le parentesi quadre e tramite il loro indice come in C e in tutti i linguaggi bisogna fare attenzione a non accedere elementi al di fuori della dimensione dell'array come dicevamo prima gli array possono avere contenuto diciamo contenuto riferimenti a valori che sono di tipo diverso per esempio un numero una stringa un valore decimale un valore booleano e così via come vedete qui mostrato perché alla fine di fatto vi è un riferimento ad un array come manipolare gli array vediamo le basi più che altro per evitare di sbagliarci e di fare cose che non sono che sembrano intuitive ma che in realtà portano a un risultato differente da quello che ci si aspetta prima di tutto la proprietà length si modifica automaticamente quindi nel momento in cui noi creiamo un array vuoto e poi cominciamo a scriverci dentro gli elementi dell'array vengono creati automaticamente quindi quando scrivo v0 uguale a comparirà un nuovo elemento nell'array che contiene il valore a la stringa a e non devo fare assolutamente niente viene creato automaticamente l'array si allunga diciamo così di una unità in posizione 0 viene posto il valore che abbiamo inserito quindi questi array hanno una dimensione variabile di natura a differenza di altri linguaggi dove vanno la loro dimensione va predefinita v1 uguale 8 e se noi andassimo a interrogare la proprietà length avremmo il valore 2 cioè due elementi posti nell'array possiamo inserirli anche con tutta una serie di metodi che adesso andiamo a discutere un attimo più in dettaglio per esempio push aggiunge la fine dell'array quindi se facciamo push non abbiamo bisogno di conoscere l'indice semplicemente viene aggiunta la fine push a più 8 e quindi otteniamo la stessa situazione di sinistra e invece c'è il metodo unshift che aggiunge all'inizio dell'array ecco qui ci sono i 4 metodi per modificare in place quindi andare a modificare l'array stesso nel suo contenuto push aggiunge la fine pop toglie dalla fine unshift aggiunge all'inizio e shift toglie dall'inizio quindi come dice la parola shift a tutto quanto a sinistra di un'unità unshift invece fa posto e shift a destra copiare array bene questa è una cosa importante bisogna fare attenzione perché come dicevamo in javascript le variabili sono dei riferimenti e quindi quando assegniamo un array e una variabile abbiamo assegnato alla variabile il riferimento all'array quindi se noi scriviamo let alias uguale a v let qualsiasi cosa uguale a v creiamo una nuova variabile con un nome che ha un riferimento che punta allo stesso array guardate la situazione qui a destra col python tutor javascript se dobbiamo creare una copia vera e propria dobbiamo farlo diversamente e questo diversamente questo è un metodo per farlo array.from v e qui viene creata una copia dei riferimenti presenti nell'array riferimenti o valori diretti presenti nell'array e viene posta in copia il riferimento a questo nuovo array come vedete sono due array separati quindi attenzione a fare questo genere di operazioni chiaramente possiamo lavorare sugli array abbiamo visto prima il for of che è il modo principale con cui si itera sugli array oppure possiamo usare il for classico con inizializzazione condizione incremento decremento insomma variazione ad ogni passo che diciamo abbiamo imparato dai linguaggi di programmazione tipo c esistono tutta una serie di funzioni come dicevamo che sono orientate alla programmazione funzionale a cui bisogna passare una funzione che agisce su ogni elemento dell'array e quindi la questione è un po' più complicata e la rivediamo quando avremo parlato di funzioni avremo capito meglio come funzionano le funzioni in javascript ci sono tutta una serie di metodi qui vengono elencati i principali più utili diciamo e adesso vediamo qualche esempio per esempio concatenare due array può essere utile e si noti che questa funzione ritorna un nuovo array unirli tramite un delimitatore questo è utile soprattutto per le stringhe quindi per esempio mettere insieme più stringhe che alla fine sono viste come array in javascript che so separate da spazio separate da virgola e così via estrarre una parte di array oppure rimuovere elementi di un array e opzionalmente anche rimpiazzarli in place cioè nell'array stesso attenzione ad usare splice che è il metodo da utilizzare e non delete che anche esiste ma fa una cosa molto diverso cioè cancella il valore lo set undefined ma l'elemento all'interno dell'array continua ad esistere quindi attenzione a questa cosa non usare il delete ma usare lo splice se si vuole effettivamente eliminare un elemento dell'array e spostare tutti gli altri perché come dicevamo appunto il delete fa una cosa diversa è possibile fare il reverse il sort e così via andare a cercare elementi all'interno degli array eccetera eccetera vediamo prima di proseguire qualche esempio utilizzando il python tutor quindi andiamo a vedere quindi apriamo il python tutor cancelliamo e che so creiamo un let a uguale che so prendiamo i numeri di fibonacci 1 1 2 3 qualsiasi cosa non fa niente ops un grandito ok quindi c'è un primo array prendiamo secondo array b che so facciamo delle stringhe a b c let c ecco concateniamo c'è a b c quindi eseguiamo così ecco let c che so facciamo a concat b quindi ecco nuovo array concatenato let d uguale a b c mettiamo come elementi del del nuovo array i vettori stessi cosa è successo l'array contiene dei riferimenti che sono gli stessi a b c di quelli di appunto a b c questa situazione vi fa capire spero un po' meglio come effettivamente viene gestito il meccanismo dei riferimenti a livello visivo possiamo chiaramente andare ad utilizzare gli array come siamo abituati che so quindi d casella 1 quindi questo elemento e poi punta ad un altro array quindi 2 che so l'ultimo elemento assegnargli un nuovo valore hello facciamo invio ecco e vedete che si fa tutto quello che viene fatto tipicamente in un linguaggio che gestisce gli array di referenziata la casella 2 e no la casella 1 scusate poi c'è un array referenziata la casella 2 e andiamo a impostare un nuovo contenuto che so d d d d 2 uguale che so un altro array quindi 1 2 3 punte virgola e vedrete che d d2 ecco perde riferimento al c che avevamo messo prima e c'è un nuovo array che viene creato seduta a stante e referenziato facciamo una prova adesso con un join di cui parlavamo prima che so potremmo stappare il contenuto del vettore a console log così impariamo anche a usare console e stampiamo che so a join e concateniamo il tutto con delle virgole vediamo cosa viene fatto quindi viene eseguito tutto il programma questo è l'output della console e vedete che i numeri sono concatenati con una virgola se avessimo messo spazio chiaramente cambia e così via questo è un utile meccanismo per stampare per esempio che so il contenuto di un vettore piuttosto che una serie di stringhe console.long che so appunto b join ok e qui abc possiamo agire con gli altri metodi che abbiamo visto che so sui vettori andranno a prendere una parte quindi tipo prendiamo c slice scusa slice e andiamo a che so prendere dall'indice 3 quindi e va a prendere dall'indice 3 all'indice 5 escluso se avessimo avuto voluto anche il 5 dovevamo mettere 6 e vedete che ne compare uno in più quindi prende una fetta dell'array e ce lo copia facciamo un esempio di vediamo un esempio con lo splice quindi possiamo fare splice scusa c prendiamo il c che è il più grosso c splice e facciamo sparire l'elemento in posizione 5 quindi 5 un elemento e vediamo che adesso è sparito e tutto il resto si è spostato notate bene si è spostato che è una cosa molto diversa da quello che vi dicevo prima perché esiste anche il delete a livello di linguaggio javascript e quindi delete se noi scriviamo delete c c6 cc6 questo esiste ancora e diventa un default cioè non ci viene spostato niente attenzione quindi no da non fare quindi bisogna fare attenzione a come si gestiscono questi vettori così come quando setto dei nuovi valori all'interno dell'array se uso un indice che non è consecutivo vedete cosa succede bisogna appunto fare molta attenzione a quello che si fa con gli array quindi eliminiamo questi due modi di procedere che non sono particolarmente utili e intuitivi e ritorniamo alle nostre slide per andare a vedere questo tipo di assegnamento che è abbastanza utile ossia questo destructuring in inglese cioè spacchettamento dell'assegnamento cioè tutto ciò che viene che sta a destra viene spacchettato elemento per elemento e assegnato a tutto ciò che sta a sinistra quindi per esempio una scrittura come questa let x y uguale 1 2 fa sì che in un'unica istruzione atomica di javascript alla variabile x definita nuova variabile tramite let venga assegnato il valore 1 e y venga assegnato il valore 2 è anche possibile scrivere espressioni di questo tipo per esempio scambiare il valore di x e y in questa maniera senza l'utilizzo di una terza variabile e senza problemi di alcun tipo perché l'operazione è eseguita in maniera atomica da javascript quindi non è che il valore di una delle due viene sovrascritto questo metodo di procedere è particolarmente utile nel momento in cui appunto abbiamo bisogno di spacchettare dei valori per esempio appunto fu un array e assegniamo ai vari elementi che lo compongono per esempio quando viene ritornato da un valore di ritorno di una funzione abbiamo bisogno di ritornare più di un valore da una funzione sapete che è sempre un po' complicato nei linguaggi di programmazione per esempio in c non è possibile bisogna ritornare un riferimento a un qualche cosa eccetera e qui invece si può fare tutto in maniera un po' più intuitiva per esempio ritornando un array di cui si può immediatamente separare il valore in due variabili parliamo di un operatore importante che è il cosiddetto operatore spread cioè i tre puntini che sono un operatore introdotto in versioni più recenti di javascript e non tanto perché faccia chissà che cosa ma perché viene utilizzato ampiamente nella programmazione quindi è importante conoscerlo perché lo troverete molto spesso all'interno del codice che andate a vedere poi prendendoci un po' la mano ne apprezzerete anche la capacità di realizzare in maniera semplice alcune operazioni con gli array e comincerete ad apprezzarne diciamo la compattezza e nonché la capacità di realizzare operazioni relativamente macchinose quindi cosa fa l'operatore di spread i tre puntini espando un oggetto iterabile cioè per esempio una stringa un array eccetera nelle sue parti quando la sintassi richiederebbe una lista di elementi separati da virgola che so come nell'operatore di nell'operatore di destructuring che abbiamo visto prima nel destruction che abbiamo visto prima volevamo assegnare una serie di valori a destra dell'uguale a ciò che sta a sinistra dell'uguale ogni valore a destra viene assegnato un singolo valore a sinistra una singola variabile a sinistra anzi e quindi si prende il primo la 1 finirà nella x e poi il 2 dovrebbe finire nella seconda variabile il 3 alla terza variabile e così via se voglio mettere tutto quanto in un'unica variabile y posso farlo con questo operatore tre puntini y e tutto ciò che segue verrà messo nella y e quindi y diventerà un array 2,3,4 questo meccanismo funziona anche a rovescio cioè a destra dell'uguale se voi prendete un array che so shoulder knees e lo volete assegnare da qualche parte dove è richiesta una lista con la virgola si può fare e quindi il lyrics otterrà head shoulder knees separati and toes quindi funziona sia a sinistra sia a destra è possibile anche andarlo ad utilizzare per esempio per fare una copia di un un array quindi array from che prende l'array oppure array off che prende una lista di valori separati da virgola oppure direttamente in questa maniera andiamo a provarlo nel nel nostro python tutor che so scriviamo let di uguale non so mettiamo dei valori quindi asterisco virgola a virgola più così tanto per mettere qualcosa se noi scrivessimo a direttamente chiaramente ci viene il riferimento all'array come avevamo visto prima se adesso però inseriamo l'operatore spread array viene preso espanso e copiato nel nuovo array d che so let e uguale che so b se scriviamo così chiaramente abbiamo già visto prima che è riferimento allo stesso array ma invece se usiamo l'operatore spread adesso vedete che viene preso e copiato quindi viene iterato e copiato e assegnato ad e ok quindi come vedete è un qualcosa che può essere abbastanza utile passiamo all'ultimo argomento di questa lezione che sono le stringhe come ogni linguaggio che si rispetti diciamo la gestione delle stringhe è un po' particolare e anche in javascript lo è prima di tutto quello che dovete ricordare è che in javascript come peraltro succede anche in java una stringa è una sequenza di caratteri immutabile immutabile cioè io creo una stringa e poi non la posso andare a modificare è una sequenza di caratteri unicode perché javascript si basa su unicode va bene e la lunghezza è il numero di caratteri che contiene non i byte questo perché unicode non è che un carattere è sempre uguale a un byte si possono indicizzare l'abbiamo già visto l'indice parte da zero non c'è è un tipo particolare per il singolo carattere quindi il singolo carattere può essere diciamo usato in javascript come una stringa di lunghezza 1 si possono usare come avete già intravisto negli esempi sia gli apici singoli sia gli apici doppi bisogna fare attenzione in certe occasioni quasi sempre sono equivalenti ma ogni tanto non è così e lo sottolineeremo quando necessario si possono fare operazioni sulle stringhe tutte le operazioni ritornano una nuova stringa perché abbiamo detto che sono immutabili e quindi s3 si può andare a indicizzare il terzo dunque questo è il quarto caratteri si parte da zero della stringa si può usare il più per concatenarla si può andare a vedere il numero di caratteri e così via e quindi ci sono poi tutta una serie di metodi sulle stringhe che sono utilizzabili per lavorare con le stringhe in maniera efficiente che sono uppercase lavorcase andare a ricercare eccetera eccetera ecco un metodo su cui è interessante richiamare l'attenzione è split è un metodo interessante perché ci consente un po' al contrario del join che abbiamo visto prima con gli array di andare a dividere una stringa in diversi pezzetti sulla base di un separatore che sono uno spazio piuttosto che una virgola e così via quindi da da ricordare perché utilizzato spesso è possibile usare anche una terza notazione per le stringhe che sono stringhe incluse in questi backticks che sono l'apice orientato al contrario che tra l'altro non è neanche presente nella tastiera italiana è presente nella tastiera inglese in alto a sinistra che sono i cosiddetti template literals cioè sono una stringa template dove è possibile inserire delle espressioni javascript eliminate da dollaro aperta graffa chiusa graffa quindi il valore dell'espressione è interpolato cioè aggiunto all'interno della stringa per esempio abbiamo una variabile che contiene una stringa bill si riferisce una stringa bill e greeting con i backtick la facciamo diventare una stringa in cui vogliamo scrivere hello e poi il contenuto di name quindi di un'espressione javascript fondamentalmente questo appunto name che è una variabile già definita verrà sostituita al posto di tutto dollar eccetera e quindi verrà fuori hello bill è molto utile e anche abbastanza intuitiva per veloce per formatare delle stringhe per creare delle stringhe senza doversi mettere lì sempre con più 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 con lo spazio e tutto quanto inoltre una caratteristica che non hanno gli altri modi di dichiarare una stringa cioè l'apice singolo e doppio ossia possono andare su più linee quindi finché non chiudo il backtick tutto ciò che scrivo inclusi gli a capo viene preso andiamo a vedere ancora un esempio prima di terminare quindi sempre con il nostro python tutor quindi andiamo a prendere python tutor e andiamo a riprendere l'esempio let name uguale enrico let message uguale ecco non usiamo non usiamo l'apice normale ma usiamo il backtick che dovete andare a recuperare tramite qualche combinazione di tasti sulla vostra tastiera di solito alt più qualche cosa sulla fila dei numeri e quindi che so hello dollaro name con le parentesi graffe quindi name e chiudiamo il backtick punto e virgola e andiamo a fare eseguire il nostro programma e verrà fuori hello enrico come ci aspettiamo notate che qui dentro possiamo scrivere direttamente un'espressione javascript senza chiaramente esagerare perché poi diciamo chiaramente le cose cominciano a diventare complicate però è un'espressione javascript possiamo usare quella or per il valore default che abbiamo visto prima e quindi se io cancello enrico l'espressione javascript all'interno verrà eseguita e verrà eseguita e prenderà il valore default perché name è una stringa vuota quindi valuta falso e quindi si prende il secondo valore quindi può anche essere abbastanza interessante per avere che so un valore di default nel momento in cui ci serve per senza dove scrivere tanto cosi senza dove riempire il nostro codice di if e così via quindi torniamo alle nostre slide ecco e fondamentalmente abbiamo terminato per per oggi quindi abbiamo fondamentalmente visto tutta una serie di caratteristiche alcune di base alcune già un pochino più avanzate che ci consentono di cominciare a sperimentare con javascript per andare a fare delle prove e prendere familiarità per esempio con gli array i metodi degli array le string e questi elementi che sono già l'uguaglianza stretta quindi che controlla anche il tipo e no eccetera e quindi fare un po' di esperimenti che ci consentono di prendere familiarità con il linguaggio per ora terminiamo qui questa lezione e ci sentiamo nella prossima lezione dove proseguiremo con aspetti più avanzati del linguaggio javascript sostanzialmente parleremo di oggetti funzioni e così via quindi qualcosa di un pochino più complicato e peculiare di javascript arrivederci